Igiene nella vita in macchina 2. Scoperta ed importanza Una serie in sei lingue con playlist su ciascuno dei sei canali. Quando si è scoperto che le misure igieniche proteggono dalle malattie? Inoltre, Ignaz Semmelweis scoprì nel 1846 che dopo le autopsie mattutine le particelle di sangue rimanevano attaccate alle mani degli studenti di medicina. E questo portava alla morte per infezione di quelle madri che venivano curate nello stesso pomeriggio. Da questi medici per la nascita dei loro figli. Perché l'igiene è particolarmente importante per me? L'igiene personale è molto importante per me. Perché sono nata a Monaco? E per noi la purezza è particolarmente importante. Già nel 1516 abbiamo deciso Che si può chiamare birra solo una bevanda In cui vi siano acqua, orzo e luppolo. Con chi non lo capisce è fatica sprecata. Cosa significa in realtà puro o pulito? Definizione Privo di inquinamento o sporcizia Maggiori informazioni su questo argomento in italiano nella playlist Lo stesso video nelle altre cinque lingue Link sottostante No 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 Grazie per la visione!